Dancer D let's move! Ciao, oggi parlo per tutte quelle del grado 2 e del grado 3. Cosa andiamo a fare oggi con questo video tutorial? Andiamo a preparare la parte iniziale del finale, quindi sulla canzone Gimme Fantasy che avevamo già fatto nell'altro video tutorial insieme alla Jessica, il pezzo finale che invece facciamo tutti insieme. Quest'anno siccome avremo poco tempo per preparare tutto il saggio, e soprattutto è veloce anche la musica, non tutte le classi avranno degli otto tutti per sé, ma mescolerò un po' le classi. Quindi nel vostro caso inizierete voi, il grado 2 e il grado 3 inizieranno insieme, e faranno il primo pezzo insieme, in modo tale che almeno ci stiamo tutti e riusciamo a fare un bel lavoro. Allora, si parte da fuori, dalle quinte, alcuni partiranno a destra, alcuni partiranno a sinistra, quindi prendete un po' con le pinze la partenza dei piedi, perché dipende un po' da dove si parte. Inizieranno ad entrare il grado 2, ok? È uguale, quindi grado 3, intanto iniziate a imparare i passi, perché è lì stesso l'ingresso. E abbiamo, alcuni entreranno di qua come vi ho detto, e alcuni di là. Cammino, sono otto passi in avanti, guardando la compagna che sarà di fronte dall'altra parte della tenda. Quindi, io non ho spazio, fate finta che vado avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne facciamo otto, poi quattro all'indietro. 1, 2, 3, 4. E quattro verso il pubblico. 1, 2, 3, 4. Facilissimo. Stessa cosa faranno le altre compagne che entreranno dall'altra parte. Quindi avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quattro indietro. 1, 2, 3, 4. Quattro in avanti. 1, 2, 3, 4. Prima lo fa il grado 2, poi lo fa il grado 3. Proviamo a farlo insieme. Cioè, faccio sia uno che l'altro. Facciamo finta che io faccio sia una bambina di grado 2 che di grado 3 che entra da questa parte. Quindi, inizia musica. C'è la tipa che urla. Parte il grado 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il grado 2 aspetta il grado 3 facendo la marcia sul posto. Ok? Grado 3. Subito parte. Cioè, appena finito il grado 2, parte il grado 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Quattro avanti. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Adesso iniziamo tutti quanti a fare lo stesso passo. E si fa. Chiudo. Apro. Avanti, destra, incrociata. E torno. Chiudo. Apro. Avanti, sinistra, incrociata. Ok? Quindi, rifacciamo. E chiudo. Apro, destra, e. Chiudo. Apro, sinistra, e. Facile, facile. Riproviamo. 3, 2, 1, e. Chiudo. Apro, destra, apro. Chiudo. Apro, sinistra, apro. Più veloce perché sarà. Gimmi. 1, 2. Gimmi. 2, 3, 4. 5, 6, 7, e. 1, 2. Gamba, e. 1, 2. Gamba, e. Ancora una volta. 3, 2, 1, e. 1, 2. Gamba, e. 1, 2. Gamba, e. Ok. Adesso. Spalla, sinistra, in avanti. Quindi, sono girata così. Due salti in avanti. 1, 2. Le mani sono così. Quindi, piccoli due saltelli in avanti. 1, 2. Passo destra indietro. e giro da questa parte, non all'indietro, eh. Quindi, abbiamo, ci mettiamo di qua, mani su. 1, 2. Passo e giro. Ok? Proviamo tutte insieme ancora da capo. 3, 2, 1, e. Chiudo, apro. Destra, e. Chiudo, apro. Sinistra, e. Due salti. 1, 2. Passo, giro. Ok? Ultima volta. 3, 2, 1, e. Chiudo, apro. Ta, ta. Chiudo, apro. Sinistra. Due salti. 1, 2. Apro. Giro. Ok. Da qua. Due battiti. 1, 2. Vado avanti con gamba destra. Vettimamente il box step. Quindi, avanti, avanti, dietro, dietro con i piedi. E facciamo destra, sinistra. Ribatto. 1, 2. Torno indietro. Destra, sinistra. Ok? Rifaccio questo pezzettino. 3, 2, 1, e. 1, 2. Destra, sinistra. 1, 2. Destra, sinistra. Vado di nuovo. 3, 2, 1, e. Batto, batto. Destra, sinistra. Batto, batto. Destra, sinistra. Riproviamo di nuovo. Da capo tutto. Non le camminate. Da chiudo, apro. 3, 2, 1, e. Chiudo, apro. Destra, e. Chiudo, apro. Sinistra, e. Mani. 1, 2. Apro, giro. Due battiti. 1, 2. Destra, sinistra. 1, 2. Destra, sinistra. Ok? Non è difficilissimo. Proviamo. Tutto da capo dalle camminate. Inizia il grado. 2, e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuo a marciare. Grado 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutte insieme. Chiudo, apro. Destra, sinistra. Chiudo, apro. Sinistra. Tan, tan. Passo, giro. Batto, batto. 1, 2. Batto, batto. Pam, pam. Ok? Da qui. Mano destra, sinistra. Intanto apro le braccia. Pam, pam. Ok? Apro, apro. Da qui piego braccio destro. 1, 2. Quindi è, dimmi, tan, 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 pam, pam. Ok? Rifaccio. E dopo aver fatto uno del battito, 3, 2, 1, batto, batto, 1, 2. Batto, batto, 1, 2. Ok? Mano, mano, destra, sinistra. Apro, apro. Pam, pam. Ok? Da qui, questa che è su, vai, scusate, questa che è fuori, va su. E cammino con la gamba apposta, naturalmente. Non è che vado in giro così, eh? Non siete capaci? Quindi, gamba sinistra. E vado in avanti per raggiungere la compagna che poi vi dirò. E dovete fare indico, indico, tac. Se la compagna sarà di qua, indico, indico, qui. Ok? Se un gruppo è da 3, indico, indico, tac. Quindi ci sono varie opzioni. Proviamo tutto da chiudo-apro. 3, 2, 1, e chiudo-apro, destra, torno. Chiudo-apro, sinistra, torno. Ci siamo? Salti. 1, 2, apro, chiudo. Batto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, pam, pam. Mano-mano, ta-ta. 1, 2, yes. Cammino. 1, 2, 3, 4. E vado. Dito-dito, là. Ok? Quando siete qua, girate intorno alla compagna, vi girate, uscite, andate a prendere quelle del grado 1, li piazzate dove vi dirò e poi uscite da questa parte, dall'altra parte. Ok? Perché se entrerà, loro entreranno da quella e voi uscirete da questa poi. Ok? Per non far disastro. Questo. Va bene? Proviamo ancora. Tutta una volta, senza musica. E poi vi metto la musica. Attenzione che è veloce. Tra l'altro vi verrà un po' da confondervi. Perché voi ballerete sempre sul ritornello. Alla fine è una canzone che si ripete ed è tutto uguale. E quindi non è che potevo inventarmi qualcos'altro. Nel senso, sulla stessa musica dovete fare passi diverse. Basta che non vi confondete. Parte grado 1. E se, buonanotte. Grado 2. Vado a cammino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudo, apro, destra, sinistra. Chiudo, apro, sinistra, torno. Pam pam. Passo di là. Tan 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 tan. Pam pam. Tan tan. Pam pam. Tan tan. Tan tan. Cammino. Uh. Pam pam pam. Indico, indico là. Vado in giro, torno là la mia compagna. Esco a prendere grado. 1, 1, 1, 1. Vado lì. Esco di là. Ok? Ritornerà per fare il finalone. Che lo ripetiamo insieme. Ma dovreste averlo un po' studiato. Ed era 1, 2, 3, destra. 1, 2, 3, charleston. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, dito, dito, pam. Molleggio. Battito. Vado de là. E c'era il rovazzo che mi dimenticavo. Rotolino. Vado di qua. Cammino. Destra. 1, 2, 3, 4, mi avanzo, rimango fermo con la sinistra. Dipende dove siete. Ritorno indietro. Mano a mano. Là. Ce la possiamo fare? Prego la musica. Allora. Vi alzo il volume. Spero che la sentite. qui, tutti fuori. Parte il grado 2. Vado ancora. Grado 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette indietro. 1, 2, 3, avanti. Pronti? Chiudo e apro. Sinistra adesso. Salti avanti. Batto. Giro intorno alla compagna. Vado a prendere il grado 1. E vado. Ed esco. E aspetto poi di ritornare per il finalone. Lo rifacciamo un attimo. Vi rimetto la musica. Provo a mettere senza uccidermi. Scusate. La musica è un po' più vicino perché ho paura che non vi si sente. Ok? Spero che la sentiate. Grado 2. 3, 2, 1. E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indietro 4. Parti. Grado 3 adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Indietro. Vado avanti. Chiudo e apro. Destra. Due salte avanti. Destra piego. Vado giro la compagna. Vado verso a prendere il grado 1. Ballo un po' con loro. Li piazzo, li desco e vado fuori dall'alto. Ok. E aspetto il ritornello alla fine, alla fine, alla fine. Vi metto la musica della finale che è dopo il sax. Sentite? Qua. 5, 6, 5, 6, 7, e... Destra. Charleston. Saltello. Indico. Molleggio. Batto. Avanti, destini. Giro. Ok. Spero sia tutto chiaro. Quello che vi chiedo, mi raccomando, uno studiare. Poi, per favore, cercate di farmi dei video e mandatemi lì, perché abbiamo provato a fare delle video chat, ma non siete in tantissime e se vi racchiudo il sistema, l'internet non riesce a reggere il tutto. Quindi, se mi mandate, per favore, quando siete un po' pronte, anche il video, sarebbe ottimale, così non vi do un'occhiata e vi correggo. Un'altra cosa fondamentale, ricordatevi, sia il disegno che la foto, cosa meno inizio in questi giorni, che devo stare a casa per forza, a creare il video da mettere, da proiettare dietro. Ok? Un bacione, mi mancate. Tanto love! Ciao! Ciao!